Musica Buongiorno nell'amore del Signore Allora voglio incominciare questa mattina con questa frase di questo regista e scrittore Silvano Agosti Lui ha fatto questa affermazione Ogni essere che viene al mondo cresce nella libertà e si atrofisa nella dipendenza A seconda del punto di vista magari sarà una cosa buona Perché se tu dipendi sempre dagli altri allora che cosa succede? Succede che non cresci mai, non prendi mai la tua responsabilità Però se noi guardiamo e analizziamo a fondo quello che c'è qui in questa frase Noi vediamo ossia che l'essere umano ha un senso dell'arroganza Ha un senso di poter fare le cose da solo Ha un senso di indipendenza E allora viene valorizzata soprattutto questa autonomia Viene soprattutto valorizzato questo senso della libertà Che io posso fare le cose E dall'altra parte se tu dipendi dagli altri è una cosa negativa Al punto che noi viviamo in un contesto dove se tu devi dipendere dal Padre Eterno È una cosa negativa per molte persone E a volte, ahimè, anche per alcuni credenti Dici, no, io devo fare le cose Quindi questa valorizzazione estrema del mio io E non quella di dipendere dal Signore Ma che cosa vuol dire essere autosufficiente? Autosufficiente è una persona che basta a se stesso Non ho bisogno di nessuno Ho i miei mezzi, ho il mio denaro Ho la mia esperienza, ho la mia intelligenza E qualcosa mi dice che sicuramente in Italia, in Europa e nel mondo intero L'ambizione dell'essere umano è quella di essere sempre più indipendente dagli altri O se di essere sempre una persona che non ha bisogno di nessuno Perché io ho i miei mezzi finanziari No? Sia dal punto di vista dell'economia, di tutto quanto O se è il desiderio dell'essere umano Allora, la domanda che io faccio a me e a te questa mattina È se tu ti senti una persona autosufficiente Non deve dire neanche a voce alta Se l'hai detto non c'è problema Grazie per la tua sincerità Però vorrei che tu pensassi nel tuo intimo Perché a volte noi ci comportiamo Ossia, noi ci comportiamo in una maniera Però fermiamo un'altra cosa Forse noi stiamo dicendo Sì, io dipendo dal Signore Però la maniera in cui io vivo Le mie scelte, le mie azioni, il mio comportamento La mia famiglia La maniera come io mi relaziono con gli altri esseri umani Fa dimostrare esattamente l'incontrario Ossia che io non dipendo dal Signore Ma questa mattina Noi vogliamo leggere un brano Che ci ricorda che io e te Volendo o non volendo Tu dipendi dal Signore E dobbiamo questa mattina riconoscere che Lui è sovrano Che non c'è nessuno come Lui L'uomo cerca di sopraffarlo L'uomo cerca ossia di superare Dio La persona di Dio Ma è una missione impossibile Perché Lui è il Signore Apri con me nei Salmi 104, versetto 27 Salmi 104, versetto 27 Invito sempre tutti voi di aprire la Bibbia Incominciamo man mano Lasciare i cellulari E aprire la Bibbia Perché magari Ossia sappiamo usare l'aggeggio elettronico Ma non sappiamo neanche dove si trova I libri Noi della Bibbia Quindi Salmi 104, versetto di numero 27 Salmo 104, versetto 27 Dice così la parola del nostro Signore Avete trovato? Amen Il Signore dice nella sua parola Tutti quanti sperano in te Perché tu dia loro il cibo al suo tempo Tu lo dai loro ed essi lo raccolgono Tu apri la mano e sono saziati di beni Tu nascondi la faccia e sono smarriti Tu ritiri il loro fiato e muoiono Ritornano nella loro polvere Versetto 30 Tu mandi il tuo spirito e sono creati E tu rinnovi la faccia della terra Parola del nostro Signore Allora questa mattina Per fare un riassunto Non abbiamo letto tutto il Salmo Però per fare un riassunto di questo Salmo E per fare un riassunto del messaggio di questa mattina Confida nel Signore Confida nel Signore perché la nostra esistenza Io chiedo a cortesia di andare avanti nella slide Confida nel Signore perché la nostra esistenza dipende da chi? Dal Signore Confida nel Signore Confida nel Signore Ma questa mattina vogliamo vedere almeno due prove Che dimostrano che è così Se tu dici no ci penso io a modo mio Scusami ma hai proprio sbagliato strada Hai sbagliato palazzo Perché nel citofono non c'è il nome di questa persona Se tu non sei padrone del mondo Io non sono padrone del mondo E magari noi siamo cari Siamo affettuosi Siamo anche spirituali Ma quando usciamo da quella porta Adesso comando io Qui comandi te Signore Ma fuori comando io Non è così Allora la prima cosa che noi vogliamo vedere questa mattina È che ci sono queste due prove Numero uno Che tutti dipendono da Dio per il loro cibo E noi vogliamo vedere questo Numero due Tutti dipendono da Dio per la loro continuità della vita Ma veniamo alla prima La prima prova Che tutti dipendono da Dio per il loro cibo Perché senza cibo Una cosa così basilare Tu non puoi vivere Noi viviamo è vero In una società che mangia più di quello che ha bisogno Perché veramente mangiamo Ci sono tante persone in sovrappeso Io sono stato in sovrappeso Non sto dicendo che sono il pesolino Per carità Però certamente Noi abbiamo È una cosa vitale Ossia abbiamo necessità di mangiare E questo non importa se erano 2000 anni fa 3000 anni fa O nel 2020 La necessità dell'essere umano di cibo È sempre uguale Ma che cosa dice la parola del Signore Vedi bene come è il versetto 27 Tutti quanti sperano in te Perché tu dia loro il cibo a suo tempo Guarda com'è nel versetto di numero 27 Chi sono le persone che hanno bisogno del cibo del Signore Chi? Tutti quanti E qua la parola tutti quanti vuol dire Tutti gli esseri viventi Che siano esseri umani Che siano nel regno animale Che sia anche nel regno diciamo Della natura Del vegetale Delle alberi Tutto là Tutto quello che esiste Tutto dipende dal nostro Signore E qual è l'azione che esiste Se sono tutti quanti La parola di Dio dice C'è un verbo qua Che sperano Nel Signore Se c'è una cosa che io e te dobbiamo fare Tutti quanti noi E sperare nel Signore Sperare nel Signore vuol dire confidare in Dio Dicare Signore io sono debole E se tu offri la tua bontà Io spero in te Ho la dipendenza totale Io confido nel Signore Non nel senso che adesso Non dobbiamo più lavorare Perché la parola di Dio Anche Paolo ha detto Chi non lavora e chi non mangi No Non voglio essere un sanghissuga Io ho la mia responsabilità Però anche con la mia responsabilità C'è una potenza del Signore Che va di sopra delle mie forze Io devo dipendere dal Signore Confidare nel Signore Io devo desiderare Annellare il Signore Magari quando tu stamattina Ti sei svegliato La prima cosa che voglio È una tazza di caffè Tu devi desiderare il Signore Devi cercare il Signore Annellare il Signore Allora Io che cosa devo desiderare Il Salmo 104 Versetto 27 Dice Tutti quanti sperano in chi? In te Signore Io spero nel Signore Questa è la volontà del nostro Dio Io devo sperare Per esempio Il Salmo 119 166 dice Io ho sperato Nella tua salvezza Signore Io ho messo in pratica I tuoi comandamenti Io devo sperare nel Signore Non sperare in me stesso Io mi fortifico in Dio E qua sia dal punto di vista Perché stiamo parlando di cibo Sia del cibo materiale Ma soprattutto per noi Che siamo figli di Dio Possiamo anche fare Qui un'applicazione Il mio cibo spirituale Perché se non sono forte in Dio Magari anche il mio modo di mangiare È scontrollato Perché mangio anche più di quello che ho bisogno O mangio le cose sbagliate Perché ho l'ansietà dentro del mio cuore Io ho bisogno di annellare Di cercare il Signore Allora Qual è il proposito? Il proposito del Signore Il Signore dice Tutti quanti noi cerchiamo il Signore Speriamo in Lui Perché tu dia loro il cibo A suo tempo È Dio che dà Che cosa Lui ci dà Guarda il versetto C'è tutto nella parola di Dio Non sto indovinando niente Lui che dà Che cosa ci dà Ci dà cibo A chi? A loro Quando ci dà il cibo? Al suo tempo Noi abbiamo bisogno del mantenimento Abbiamo bisogno Il Signore ci dà Quello di cui noi abbiamo bisogno A volte la nostra ansia è così grande Che noi pensiamo Dio non mi risponde Dio non è con me E io non riesco a aspettare Non riesco a confidare in Dio Ma il Signore ci sta ricordando Che io devo confidare Questa è la prima domenica di febbraio Come sarà ancora il mio anno? Come pagarò le bollette? Come farò questo? Noi dobbiamo sperare Confidare nel Signore Il Signore dice Che quando fa A suo tempo Nel momento giusto Cari Dio prende cura di noi Se tu a casa Leggi questo Salmo Io voglio elencare a te Alcune cose Che il Signore dà A noi al suo tempo Per esempio Nel versetto 10 a 13 Lui dice Che ci dà acqua Ma abbiamo bisogno di acqua Noi abbiamo bisogno di cibo Lo dice nel versetto 13 Versetto 15 Versetto 23 Abbiamo visto qua Versetto 27 28 No? Che era Fornisce il raccolto Lui che cosa dà? Lui dà anche Non solo acqua e cibo Ma ci dà erba E piante Sempre dentro del contesto Salmo 104 Versetto 13 E 14 Lui fornisce L'erba Bestiame Piante per le persone Versetto 16 Il Signore ci fornisce Di alberi L'uomo sta distruggendo Ma Dio ci ha donato Ogni cosa Lui ci fornisce Anche un'abitazione Versetto 17 18 Versetto 22 E poi cari Immagina se fosse Sempre giorno O immagina se fosse Sempre notte No sarebbe un po' brutto Un po' Non molto brutto Ma anche questo Il Signore ci dà Versetto 19 Versetto 20 E sapete una cosa Allora io posso dire Quello che c'è nel Salmo 145 Versetto 15 Gli occhi di tutti Si sono rivolti a te E tu dai loro Il cibo A suo tempo Quindi io devo Dipendere dal Signore Noi dobbiamo dipendere Dal Signore Versetto 28 Del Salmo 104 Dice Tu dai loro Ed essi lo raccolgono Tu apri la mano E sono saziati Di bene Io penso Nella mia idea Ho guadagnato io Ho preso io Lo stipendio Ho fatto io Ho meritato io Cari se non c'è la mano Di Dio Noi non facciamo niente In vano vi svegliate No? Ossia come dice il Salmo Vi svegliate al mattino E mangiate pane trebolato Perché il Signore D'altrettanto A coloro che Lui Ama Allora devo sperare Nel Signore E non è facile Sperare Perché vuol dire Che devo avere fede Nel Signore Allora Qual è l'azione di Dio? Dio sta dicendo Nel versetto 28 Tu dai a loro E il risultato Ed essi lo raccolgono Io non posso raccogliere Quello che Dio non mi dà Io dipendo Io quando dico io Noi dobbiamo dipendere Dal Signore Il Signore che cosa fa? Lui con amore Apre la sua mano E descrive Ossia Che noi Dall'altra parte Ossia Siamo saziati Allora è importante Che noi ricordiamo qua una cosa Dio ha creato ogni cosa Amen? Però cari E' importante che noi ricordiamo Che allo stesso tempo Che Dio ha creato ogni cosa Dio è distinto dalla creazione Dio non è il creato Lui è il creatore Amen? Perché molta gente confonde Pensando che la natura La madre natura Non esiste nessuna madre natura Mi dispiace perché Deluso per questa cosa Lo dico anche per quelli Che ci seguono da casa Non esiste la madre natura Esiste il Signore creatore Dei Cieli e della Terra Questo perché Quando dico madre natura Qualcuno sta dicendo Dio non esiste Comandiamo noi Non è noi Non comandiamo assolutamente niente Dio è al di sopra Della creazione Allo stesso tempo Lui è sempre coinvolto Perché è coinvolto? Perché Lui dirige ogni cosa Perché l'autorità La potenza è sua È il Signore che ci fornisce la forza Che dà intelligenza A un chirurgo Per fare un intervento È il Signore Che dà l'intelligenza A un ingegnere A un medico A un professionista A un operaio Dio L'uomo può vivere 80 anni 90 anni Ci sono quelli Diciamo che hanno una vita Anche un po' più Oltre 100 anni In Italia Ha un merito In questo E poi E poi Cari Noi aspettiamo veramente Nel Signore Molti cristiani Nonostante le promesse di Dio Seguono il pensiero Dell'autosufficienza Sai come lo sappiamo questo? Perché concentrano Tutti i loro sforzi Della vita Solo per guadagnare i soldi Non si pensa a parlare di Cristo Non si pensa a vivere per Cristo Non si pensa alla santificazione Siamo diventati Molti di noi Materialisti E allora Noi affiniamo Per non essere diversi Da quelli che sono fuori Che non conoscono il Signore Noi dobbiamo far capire Le persone Che le nostre priorità Sì Hai bisogno di casa Hai bisogno molto probabilmente Di una macchina Forse anche due Non lo so Di un lavoro Scuola per i tuoi figli Il Signore sa le cose Di cui noi abbiamo bisogno Però io non devo vivere Per le cose Io vivo per il Signore Che mi dà le cose Allora non possiamo invertire i cavi Sennò c'è un cortocircuito Dobbiamo ricordare Che Dio ha creato ogni cosa E continua a sostenere ogni cosa Che Dio provvede E la sua provvidenza Dimostra la sua relazione con noi E guarda che anche Chi non adora Dio Non lo sa Ma è il Signore Che sta fornendo Aria Ossigeno Perché hai dato Se hai caricato Il tuo cuore stamattina Che è che lo fa battere Che è che ci dà la vita Infatti tra poco parleremo di questo Dio apre la mano per noi Quello che io e te siamo invitati a fare È quello che ha insegnato il Signore Gesù In Matteo 6 Versetto 25 Versetto 25 a 33 Guarda bene questa parola Perciò vi dico Non siate in ansia Per la vostra vita Dice il Signore Gesù Di che cosa mangerete Di cosa berrete Né per il vostro corpo Né di che vi vestirete Non è la vita più del nutrimento È il corpo più del vestito Guardate gli uccelli del cielo Non seminano Non mietano Non raccolgono i granai E il Padre vostro celeste li nutre Non valete voi molto più di loro Noi non valiamo più degli uccellini che esistono E chi di voi può con la sua preoccupazione Aggiungere un'ora alla durata della sua vita Versetto 28 E perché siete così ansiosi per il vestito Osservate come crescono i gigli della campagna Essi non faticano e non filano Eppure io vi dico che neanche Salomone Con tutta la sua gloria Fu vestito come uno di loro Ora Se Dio veste in questa maniera L'erba dei campi Che oggi è E domani è gettata nel forno Facciamo silenzio per favore Non farà molto di più per voi O gente di poca fede Versetto 31 Guarda qua quello che dice il Signore per noi Non siate dunque in ansia Dicendo che mangeremo Che berremo Di che cosa ci vestiremo Perché sono i pagani Sono i pagani Che ricercano tutte queste cose Ma il Padre vostro celeste Sa che avete bisogno di tutte queste cose Vogliamo dire il Salmo A noi Salmo Ma il versetto 33 Insieme Cercate prima Il Regno di Dio E la giustizia del Signore E tutte queste cose Vi saranno date in più Rivolgite al Signore Nella preghiera che il Signore Gesù Ha insegnato ai discepoli Anche a noi Padre nostro che sei nei cieli Santificato è il tuo nome Venga il tuo regno Sia fatta la tua volontà Sia in cielo In terra Daci Vai verso il Signore Dipende dal Signore La seconda prova che noi abbiamo È che tutti dipendono da Dio Per la continuità della vita Non solo per il cibo per oggi Ma anche per la nostra esistenza Per il dono della vita Guarda qua il versetto 29 Tu nascondi la faccia E sono smarriti Tu ritiri il loro fiato E muoiono Nel toro nella loro polvere Oggi se c'è una cosa Come sempre c'è stato Ma oggi con la scienza Con la conoscenza Sia nel campo della biologia Della genetica Della medicina in generale L'essere umano Vuole vivere di più E in un certo qual modo Ha aumentato la vita Gli anni di vita Di tante persone Perché Per qualsiasi male Praticamente Che esiste Nel nostro corpo Man mano si invecchia O ha un problema di salute Molto spesso C'è una cura Ci sono scienziati Dottori Ricercatori Adesso per esempio C'è questo Caos Di questo virus Che c'è in giro Ma Noi sappiamo Che già stanno ricercando Un vaccino Ossia L'uomo Il Signore ha dato L'intelligenza per l'uomo Nonostante Questo impegno umano È il Signore Che dà la vita La parola di Dio dice Che non posso aumentare La mia vita È il Signore Che è la sorgente Della vita Allora questo Mi deve far capire Quanto piccolo io sono E quanto grande È il Signore Chi è che ha l'ultima parola In capitolo Nel libro intero Non nel capitolo È il nostro Signore Amen Dipendiamo da Dio Perché la presenza di Dio È essenziale Per noi Ci sono tante idee Sbagliate nel mondo Per esempio Non so se avete mai sentito Parlare di animismo Animismo Quell'idea Ossia Che tutto Che è anche un po' Relazionata con Il panteismo E l'idea è che tutto L'intero universo Faccia parte di Dio Ossia Dio come persona Non esiste Quello che esiste Sono gli esseri viventi E tutti gli esseri viventi Del mondo Insieme Formano Dio Quindi te Più una formica Più una mucca Più una galina Siete Dio Gli alberi I fiumi Il vento Il sole Tutto è Dio Se tu vai Nell'estremo oriente Il buddismo L'induismo Questa è la filosofia La reincarnazione Ti deve reincarnare Se ti comporti bene Allora sali di grado Se ti comporti male Allora nella prossima vita Tu sarai un cane No? Quindi attenzione Cari non è così Questa è un'idea sbagliata È un'eresia O magari dualismo Che è soprattutto Quell'idea molto materialista Dove Dio esiste Ma esiste il mondo Che lui ha creato E ognuno va per i fatti suoi Io cammino con i fatti miei E Dio da parte Dio non può più interferire Nella mia vita Questo è sbagliato Sono due forze No? Separate Questo non esiste L'uomo non può pensare Di affrontare Di dire a Dio Guarda adesso penso io Decido io Noi non abbiamo questa potenza In effetti cari Il Signore che è sovrano È lui che conserva Che mantiene ogni cosa È il Signore che collabora con noi Perché lui essendo il Signore Ha amore per noi Ha amore per la nostra vita E vuole farci crescere E Dio ha un governo Perché lui ha uno scopo E a volte noi non riusciamo A comprendere lo scopo La direzione di Dio Nella nostra vita Signore perché Noi io sto in questa prova Allora forse la domanda Che noi dobbiamo fare A noi stessi Più che un perché Signore per cosa Io mi trovo in questo momento Della mia vita Qual è il tuo scopo Perché tu sei il Signore Ma quando io Non ho questo comportamento Allora io bestemmio Dio E quanta gente Ah io non credo più in Dio Perché mio figlio O mia figlia O c'è una malattia O c'è un problema O mio marito è morto È duro È durissimo Perché da quando Noi abbiamo girato Le spalle verso Dio Abbiamo detto Adesso ci penso io E guarda che cosa Abbiamo combinato Solo porcheria Il mondo vive male Il Signore Ha uno scopo Lui ha l'ultima parola Voglia tua o meno Lui ha l'ultima parola In ebrei Capitolo 1 Dice Egli Parlando di Cristo E che è lo splendore Della sua gloria E impronta Della sua essenza Guarda bene Quello che dice La parola di Dio Che sostiene tutte le cose Con la parola Della sua potenza E lui che sostiene Se Dio non sostiene più Cade Crolla Si spezza tutto Atti 17 Versetto 28 L'Apostolo Paolo Ha fatto questa affermazione Difatti in lui In Cristo Che cosa facciamo? Viviamo Ci muoviamo E siamo Come anche alcuni Vostri poeti Lui stava parlando Ai greci Hanno detto Perché siamo Anche sua Discendenza Noi dipendiamo Da Dio Il versetto 29 Di Salmo 104 Dice Tu nascondi la faccia E sono smarriti Sai quando Il navigatore Ha perso il segnale Ah non c'è campo E viene Come faccio Non ho la direzione E così Se tu non sai La direzione di Dio Ti senti Perduto Drittura Ritiri il loro fiato E muoiono Ritornano Nella loro Polvere Allora L'azione di Dio Qual è? Se Dio si nasconde Tutto cessa Di esistere Siamo smarriti E muoiono Questa è la parola Del Signore E l'enfasi Sai qual è? L'uomo che voleva Comandare Dice la parola Di Dio Che ritorna Non ho polvere L'uomo voleva Essere uguale a Dio E ha ceduto Alla tentazione E caduto Nel peccato Il Signore Che cosa ha detto Adamo? Tu polvere sei E polvere Tornerai a essere L'uomo voleva Salire nel pedestale Il Signore Il Signore ha detto No, 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 no Nel pedestale Ci sto solo io Perché io sono il Signore Tu adesso devi scendere Tu devi tornare A essere polvere E noi viviamo Come se non dovessimo Mai morire Anche sapendo Che esiste la morte Perché il Signore Ci ha un proposto Di vita eterna Ma finché Non ho riconosciuto Gesù Cristo Come l'unico Sufficiente Salvatore Della mia vita Che Lui è morto E risorto E ci dà La vita eterna Io sono condannato E vivo Prigioniero Dentro di me stesso Perché Spolvere sono E polvere Tornerò A essere Deuteronomio Capitolo 32 Versetto 39 Molta gente Non voleva Che questo versetto Ci fosse nella Bibbia Ma la Bibbia dice Ora Vedete che Io sono Io solo Sono Dio E che non vi è un altro Dio Accanto a me Ossia Come Lui Non c'è nessuno Io faccio morire E faccio vivere Ferisco E risano E nessuno Può liberarsi O liberare Dalla mia mano Perché Lui è il Signore Questa chiesa Appartiene al Signore La tua vita Appartiene al Signore La tua macchina Appartiene al Signore Il tuo lavoro Appartiene al Signore E quando noi abbiamo Questa relazione con Dio Se succede qualcosa di grave Signore Pensaci Tu È tuo Tu hai un sollievo Nella tua vita Perché noi dipendiamo Dal Signore Però cari Il fatto che Dio Sei responsabile Di tutto Non vuol dire Che tu non sei responsabile Ah Signore Adesso Fabiana ha detto Non devo più lavorare Non devo più studiare Vado lì solo per dare l'esame Trenta Subito No Tu hai responsabilità Tu sei stato creato All'immagine e somiglianza Di Dio Dio ha dato a noi La responsabilità Di moltiplicarci Di relazionarci Con gli altri esseri umani Di governare Il creato E se le cose Non vanno bene Se c'è un conflitto Con Dio Se c'è un conflitto Con il creato Se c'è un conflitto Con l'altro essere umano È perché Noi vogliamo fare Quello che tocca a Dio E non stiamo facendo Quello che tocca a noi Quindi abbiamo veramente sbagliato E quindi questi sono i risultati Per noi questa mattina Quando noi non confidiamo Nel Signore Però in sostanza Questa mattina Noi abbiamo visto Che abbiamo bisogno Di confidare nel Signore Perché se non confidi nel Signore O se stai dicendo Che la tua vita Non dipende da Lui Ma la nostra esistenza Dipende dal Signore Ti ricordi quali erano Le due prove Che dimostrano Che noi dipendiamo da Dio Numero uno Due prove Che noi dipendiamo da Dio Uno Tutti dipendono da Dio Per il loro Cibo Tutti dipendono da Dio Per la loro Continuità della vita Adesso faccio questo Così vivo di più Sì il Signore ci ha dato Intelligenza Responsabilità Non è che adesso salgo Nel grattacielo Di Rimini E mi butto Perché il Signore Ha l'ultima parola Non l'ha fatto Gesù Lo deve fare te No Io devo riconoscere Che Lui è il Signore Guarda bene Versetto uno Di questo Salmo Il versetto uno Dice Anima mia Benedici il Signore Signore Tu sei mio Dio Tu sei veramente grande Io devo Se tu vuoi Vivere come Dio vuole Incominci ad adorare il Signore Perché la maniera Come incomincia Questo Salmo Ossia È la maniera In cui Anche si conclude Questo Salmo Guarda con me Versetto 31 Duri per sempre Non più Anima mia Anima mia Benedici il Signore Alleluia Forse tu guardi il mondo E dici c'è ingiustizia Non c'è equità Non c'è amore C'è egoismo Signore tu non vedi questo La parola di Dio dice Che ogni cosa appartiene al Signore La parola di Dio dice Che al suo tempo Dio metterà la sua mano E farà giustizia Per ogni cosa Io e te Dobbiamo confidare nel Signore Dobbiamo dire Signore Io amo te La mia vita appartiene a te E anziché dipendere dagli altri Io voglio vivere con il Signore Perché Perché Tanti perché Confida nel Signore Perché il Signore è con te E anche nella difficoltà Come dice la parola di Dio Versetto 33 Canterò al Signore Finché avrò vita Io canto a te Signore Io lodo il Signore Perché io so che dipendo da te Senza di te io non sono Io non esisto Anzi L'unico che esiste È Dio Noi Io e te Io subesisto in Dio Dipendo da Dio Se Dio non c'è Non ci saresti neanche tu Ma perché c'è il Signore La sua grazia Il suo amore è dato per noi Vuoi vivere con il Signore? Con intensità Signore Io prego questa mattina Per la vita di tutti i miei cari fratelli E anche le persone che ci seguono da casa Finché nel nome di Gesù Cristo Possiamo rinnovare la nostra fede in te Possiamo dipendere dal Signore E anche se nel mondo ci sono tante ingiustizie Anche se nel mondo Signore A volte forse non vediamo la tua mano Perché magari diciamo Signore perché non intervieni? Perché tanta cattiveria nel mondo? Signore noi confidiamo in te Noi esistiamo perché tu ci dai cibo da mangiare Noi esistiamo Signore perché tu ci hai dato vita da vivere Signore noi consacriamo la nostra esistenza a te Io non so Signore quanti anni ancora vivremo Ma vogliamo vivere per la tua gloria Su questa terra E mentre Signore siamo qui Faremo con tutto il nostro cuore Perché un giorno questo corpo che è polvere Sarà ricostruito per la potenza della bocca del nostro Signore Gesù Cristo E risorgeremo dai morti per una vita eterna Grazie per la tua parola Oggi e sempre Nel nome di Gesù Amen Grazie a tutti